E' tutto pronto a Sulmona per la 34esima edizione della Coppa Speranze Fiat, manifestazione riservata alle scuole medie inferiori della provincia dell'Aquila, in programma domani, venerdì 24 aprile, al centro sportivo dello stabilimento Magneti Marelli, all'interno del quale sarà allestito un circuito di corsa campestre di 1000 metri. Ci sarà una grande partecipazione di giovani atleti, sono 14 le scuole iscritte per un totale di 500 studenti, in rappresentanza di 16 comuni. Oltre a Sulmona vi saranno Capistrello, Castellisangro, Ateleta, L'Aquila, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Pesco Costanzo, Raiano, Castelvecchio Subeco, Pacentro, Tagliacozzo, Pescasseroli, Barrea e Avezzano. La Coppa Speranze Fiat è organizzata dall'Atletica Gruppo Fiat Autodiformia, in collaborazione con la direzione dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico dell'Aquila, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le gare inizieranno alle 10 per terminare alle 12.15. Verrà redatta sia una classifica individuale che una per le scuole. La squadra da battere in virtù del successo ottenuto nella scorsa edizione sarà la Scuola Media Carducci dell'Aquila. Le premiazioni si svolgeranno a maggio, sempre nel centro sportivo della Magneti Marelli. Gli organizzatori cureranno anche la copertura mediatica dell'evento di domani. Sul sito internet www.atleticafiatformia.it tutti i partecipanti e non potranno scaricare i risultati e le foto e visionare il video ufficiale della manifestazione.